5 milioni di dollari, è questa la cifra che il bravissimo Leonardo Di Caprio, il famoso attore americano per eccellenza, ha deciso di donare alla foresta amazzonica, all'Amazzonia il polmone verde dell'America Latina. Per salvaguardarla da questi incendi copiosi che purtroppo la stanno distruggendo e che la stanno letteralmente radendo a zero. Invece in questo modo qua, grazie a questi 5 milioni di dollari, il buon Leonardo Di Caprio fa in modo, fa in maniera che, diciamo così, la zona, meglio questo bellissimo e fondamentale polmone verde, possa riprendersi e possa chiaramente anche trovarsi nella condizione di, magari, diciamo così, non dico di costruirsi, però magari grazie a questi soldi c'è la possibilità che qualcosa di positivo possa accadere. Non è la prima volta che Leonardo Di Caprio compie un gesto generoso attualista come questo, già vi ricordo che altre volte, in altre occasioni, è capitato lo stesso. Vi ringrazio per l'ascolto e il video termina qua. Un saluto caro da Reandro, alias narratore cariano.